Allora mi avete chiesto più volte la firma elettronica di Namirial è questa qua questo è lo scratch card col pin e il PUC quindi non correte il rischio di perderlo queste sono le firme elettroniche che hanno valenza di CNS che attivo io la CNS sarebbe la carta nazionale dei servizi che sarebbe la tessera sanitaria quindi con questa risolvete il problema della firma elettronica e della tessera sanitaria io vi do il pin e il PUC per poter operare